La Lega Nord tiene delle novità importanti a favore del mondo venatorio, di che cosa si tratta? Assolutamente sì, siamo riusciti grazie al nostro impegno a fare bocciare gli emendamenti del Movimento 5 Stelle che volevano abolire la caccia con i richiami vivi, quindi un attacco al mondo venatorio che è stato sventato grazie alla Lega Nord. In particolare quindi la Lega Nord, quali regole è riuscita a mantenere a favore dei cacciatori? Siamo riusciti a mantenere la caccia a postazione fissa tramite i roccoli e quindi grazie al nostro impegno abbiamo preservato quella che è una tradizione ultracentenaria e soprattutto abbiamo difeso un'economia, un indotto e tanti posti di lavoro che sarebbero stati cancellati a causa di questo emendamento dei 5 Stelle. Che cosa volevano i grillini? Volevano abolire la possibilità di utilizzare i richiami vivi come forma di caccia e di conseguenza noi siamo riusciti a bloccare questo emendamento salvaguardando questo tipo di caccia che soprattutto nelle nostre zone vuol dire anche economia, quindi vuol dire anche posti di lavoro.